un attimo due rosa partito la armonia non c'è il telefono non c'è il telefono non c'è il telefono no se dice uno cagliere lo c'è nel pass battaglia il colonnato dove andiamo olha oser or 가족 immagino provanti che cella rambene per Il vostro decongero nazionale Il decongero nazionale Il ninja dei nabbi Ma chi è? Il ninja dei nabbi Il nabbo dei ninja Oggi vedete che tendesse a blunder a season 3 Quindi diciamo i nabbi E' favore, c'è giù Il ninja dei nabbi Il ninja dei nabbi No, no No, va buon essere Perché deve essere così questo secondo me Perché? Devono essere così Nooo, mi è partito pure la cu... Per il mio numero nazionale Il numero nazionale Un numero nazionale Il giro, il buono Il ninja dei nabbi Ok, ma chi è editing due di dire? Editing mellan Il ninja dei nabbi Il ninja dei nabbi Il ninja dei nabbi la bollina oggi vedete che c'è un delta plauder ok vediamo qua come va la cosa ok ah ah uff ii ok 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 ma ci vuole senza le ombre mi sto to to a 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 no tornato buonasera armino ma tu vieni e vai sono crashato io ho arrabbiato non ci ho messo niente fortunatamente edward ti devo dire a te sentimi una cosa esci dentro da qui sei ah si vieni 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 Così sempre? Sì, è una mananza Buonasera, buonasera Buonasera a tutti i ragazzi Ben ritrovati nel vostro ciccio No, no Ma che modo della macchina seppico Quando sto risentendo la macchina Mamma mia, un macchino proprio Ma io, 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 io so che dirà Carmine tra poco Oh, vuoi ci Ma che dice? Ma Carmine dice Ma dice Carmine Wow, no, nella lobby Tengo unismo pazzesco Ma dice Carmine, tutto ciò Nella lobby, tengo unismo pazzesco Nella lobby Che detto nella lobby Che detto nella lobby Pazzesca Non ti sento Non ti sento Non ti sento Tu lì rob Tu lì rob Bro Il tuo Tu lì rob C'è stato comunque un 0-3 che è troppo alto Il tipo No, no, no E tu guardami guarda arrivi i carruzzi in dove guarda come l'altro sono lassopra guarda 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 questa Build Oh lele, ma che bella giornata Magari mi è uscito dal gruppo No, no, sto qua Invece te è uscito No Te è uscito Sono pagato, invitami Scusa, mamma Ma non ho capito questo Aveva detto che si era stancato Che da novembre Non ci era la pastilla del petto Ah Mi piace Ma facciamo di creativo Cosa? Un po' di creativo Non ci sentiamo Apre dimmi e spicco E io ho nel server di Mikito Eh, ti giuro il nome, Raffè Il server è il soldo Ah, bu Solito server, voglio E il server di Mikito che si entra meglio Ma bu Io non ce l'ho il server di Mikito Raffè, ma tu ci vai Quello di Mikito Eh, io sì Ma te l'ha dato lui Sì Ok, l'ho creato E startate anche su Fortnite però Aspettato 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 La cosa è la volta L'ho trovata Aspettato Guardalo qua Mamma mia M fammi E tu la metti pronti Niente E tu la metti pronti Per questa cacciata E se ti dimentica picco e mi sono molto prima però c'è l'ecchia di lui vittimi ok o però meccan non ci sono senti è mutato mi sono mutato un attimo raffa però sto qua mi senti? io si eh eduardo ancora non entro in ts perciò mi viene nella mia isola io io è quello du vabb Jr vabb 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 davvero per andare a fare qualcosa di un grande voglio 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 fare perchè tanto per la parte di armi percorso armi armi voglio farci un attimo e perciò voglio dire quello di ferro nello di legno quanti armi? 3? 3 ancora non lanciano la no no dovrò che voglio io la roba della gas la roba della gas aspettate guarda giù mi faccio pure il lama eh con le trappole dentro qui le faccio il lama la rustata la roba la roba l'armi è un das non le due pubi sera ancora noti no non no no, però c'è il giro, guarda che è passato è morti, c'è il giro ok, ho fatto la scena ho fatto la scena faccio io faccio io faccio un attimo per lama, spero, faccio un attimo per lama faccio un attimo per lama faccio un attimo per me io sono diventato più veloce, Raffae, Raffae, puoi stare qua puoi stare qua, bravo ma io, ma, Biffbattor, Biffbattor, fai, tappò fai attacca poi raffa è male no raffaele devi mettere una terza pedana e respiro a giudizio una lucco poi c'è sulla cappa e trappole perchè ho il presente voglio potessi saltare di nuovo no no fermi di nuovo ho sulla cappa e il pp 90 quanto ho sbagliato ma hai fatto se il portiere che il lago prendi il compagno no che cosa che dici hai fatto il portiere il lago dai il pombo a cammini ma perchè scusa ma non c'è nessuno no uno ce l'ho nel lama c'ho c'ho le trappole ma non c'è il portiere io uso il portiere eh perchè nel portiere c'ho gli altri ma c'ho l'altra cosa ma non c'è il portiere ma io devo la partita ma non c'è la bomba c'è lui già un bomba un bomba più non c'è il portiere non c'è che fuori ma non c'è il portiere è solitarlo non c'è il portiere non c'è il portiere la perk il portiere Nosacha per te il dono di quanti spazzo caracca 9 cosa non fa ma è vero è vero è vero è vero è vero è vero l'articolo la popolazione io vero ammettore che è stato propria scelta con me del punto per me da con me per me per me voglio sapere per favore per favore ma che bella giornata oh no no aspettate eh io c'ho 3 armi io c'ho 3 armi poi c'ho 3 armi ok ah ma come prendo l'airground ma che c'ho l'agentabilità migliore no 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 quanto so di sensibilità oh oh che sensibilità però no ma io c'ho fatto ma la c'è più grande no e 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 o siamo è ma f il no no ma nu no v l pure passare poi vengono sui generali dopo due fatti no no poi non lo vengono guardia no 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 eh perché va giù ma che no! ah ma che stiamo fai dando le due no no pizzo così non devi fare se stiamo fai dando le due due stanno che ci sono due po' di ucciderio che cosa è? è il mistero che ci riuviamo No Alla città lì qua No Ma è giù, ma è giù a giù Ah, è giù Ah, è giù Perdo Devi trasportare per me No Ho preso solo qua, sono aperto il carota Ah Ma io ho dato che ho dei cuori comunque Ma non è mai che sto qua Sto prima mi sono dei più pulisitori È bastardo Eh, lo scusate Ma io ci ho fatto un botte Ma non mi sono curato No, si è curato Non è vero, era ancora blu Era ancora blu Non dice bugi Boh, tutti contro me Se voi Se voi Scusate A me Mentre io gioco 40 persone Ma te lo devi fuori Però aiuto Però aiuto per te Mi piace dove hai distesa Non c'è Non me ne fai Eh, non è sempre Natalia Ma almeno Ciao Ciao aiuto il contro Già è il problema che è fermato il mio lavoro Non capito che devo Non capito che devo No, no, no No, no, no Sono troppo alto Ok Ok Ah, easy Dove sei le piccoli navi? Cosa? Non ho messo la d'acqua Ma dove? Bimbi prova Un buon butte già tutto io te legge Voglio figurare che è sparata a me Perchè non c'è nessuno Eh, sto qua ti so Problema? Un buon butte Ecco Billone Deve un il Idee Un buon butte non è possibile che non metti le trappole percorso questo è una struttura per pulire l'isola 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 io mi rigeneravo e generano no 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 e son morto mi sono rigenerato no e non lo devi farlo no e non lo devi farlo sei tu uno quando vuole uno quando vuole vuoi bene? guarda questo altro che ho no no non mi costruisce non mi costruisce non mi costruisce ok era bene stessi oh po' ma muoerei non puoi uccidere non puoi uccidere non puoi uccidere non puoi uccidere 10 divisa ma e ne faccio e ne battute guardi ma io c'ho l'edit come al mondo ma sei sezio sei sezio sei sezio ma dove sta ma dove sta ma io non capisco dove sta guardi però non si può fare guardi però non si può fare non si sta innaquilato ma io c'è un tiro la tua linea troppo no 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 ma io dico grazie ai percorsi di montbrani grazie io devo dire ma io non c'è un tiro ma io non c'è un tiro adesso si fai 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 guarda questo non è possibile non è possibile fai 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 guarda guarda fai 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 c b Nooo! Stavo là perchè sono morto Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma vado solo! Comunque Rappele tiene le cure! Su! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! Ma Rappetero! ok poi facciamo a dire un po' di roba senza buttarci a fare male ma chi è? ah! what? heck C'è stegampere per là sopra C'è stegampere per là sopra Ti c'è tino carlucio ti ricco a quattro armi Brava 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 Oh io facciamola di più Faccio, impossibile Guarda, c***o, è quello scuro Ma stai facendo vedere la roba stessa Con la schlurt, con la schlurt, ero in c***o, ero in c***o Ciao bello, ci si vede domani C***o, 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 c***o Ah, c***o, 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 c***o Raffaele mi ha fatto 1 Ah, Faele, tu come hai di sensibilità? Oh, eh, no Non mi vuole prendere Oh mamma Siamo dai caccia? No, Dio Io non sono io Non sono io, ho fatto 54 con la sigla Sì, sono lo che hai tolto Ah, scemo A me non sono... hai tolto di trap Mi hai tirato la sulu, però fai ricarica No, ancora 50 No, hai tolto di attaccio Vieni, fri Sci la dura Si lì, niño vai ero Si lì, ora stai Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento Fa fai Cosa lo ziggato la scala ma carmi non tiro kill Oh come affolto ad erona l'articolo l'obiettivo l'articolo l'articolo perchè mi sono trovato giù e che mi facevo costruire Raffae perchè? Raffae perchè? Raffae non mi sta staccata, c'è scritto che si è batterato Ah, siamo arrivati a fare un altro Eh, infatti io mi vedo subito Raffae non mi sono buttami giù 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 Nei... Raffae non mi sono buttami giù Raffae non si, quelle N steady dallaRA Ma, l'ha... La task oh oh mamma game oh 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 edward 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 no che è successo questo è sculato è sculato ti ho fatto 50 e 90 è vero ma il t90 è lungo mi sta curando si cura ti sta curando si cura aspetta aspetta adesso sto sbagliando eh non sei lo per si 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 ma no ma no ma no ma no ma no allo ciri fuori no ma no stai fuori no nu, ma non sei poi dice che io mi curo ti lascio immaginare che prima si è arrivato non ci siamo da necessità della cura ma non ma non mi posso tirare no 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 E' un po' di via! Non mi chiamo Edward! Non mi chiamo Edward! Non mi chiamo Edward! Sei breve, non spammare! Non spammare! No, non mi chiamo! No! Come la ruoti? Si p***a! Mamma mia, che problema! Lascia, 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 lascia Lascia, lascia, lascia 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 Bello! E' ancora? Ma dove stai? Guardi! 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 No, non so io, il bago me lo vorrei dire. Che metti? Oh! 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 No, bravo! No, bravo! No, bravo! No, bravo! No, bravo! Non sapegno! Non, 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 non! Non, non, non! Il bello! Oh, ho! Oh! Non lo so! Non, non lo so... Non lo so! si è rigenerato a me! 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 bicks brilla! bicks brilla! bicks brilla! Gli stai accendendo? Gli stai accendendo? Gli stai accendendo? clicca avvia partita no devi cliccare no no non start così ora devi stare sul timer oh per cazzo perchè io sto puoi no fra ma ti ando male no fra ma ti ando male no fra ma ti ando male asper ma ti spiego mi sono spionato fuori ma perchè mi spionato fuori ma qualcuno ma io credo fossi tu ma no no fra ti devo spionare perchè sennò cosa non si capisce dove siamo ma sei capito sono entrato la dentro la gente che mi spionava col lanciare non so fra così si fa guarda ho capito come si fa da dove si parte non mi fai di tale eh lo so perchè devi avviare la partita devi fare avviare la partita aspetta ma non sono ancora non sentere ancora sul timer non sento sessantato non sento sessantato non so stupi percorso come se cosa aspettiamo arrivo di massimo da te ok aspettando andare non direttamente amici ma mi sia stessa cosa che non è così guarda poi aspettano di partire da qua Non fai lì, non fai lì Non fai lì, non fai lì Vabbè vai, non fai lì Eh vai Non No Ehi Ehi, non sei lì Mamma Ehi, devi prendere la C Beh, difficilissima No, no Ma, questo non grano lo fa velocissimo Minchia, se lo fa velocissimo No No, qua vabbè, qua devi cliccare Di quel testo deve essere vingare, però vabbè Eh, così devo immu... Eh, così devi fare Qua sei che ti fa Guarda, guarda qua che ti fa No, non si fa così, guarda Non fa niente, lo feciano Fa così qua La spero non viene, la spero è che è difficile per provare Fa così Ma te non mi salta, spero non mi salta Fa così qua Capito? Eh, beh prova Eh, beh prova Eh, tipo come fare pensi che salta diretta Oh sì, per me Eh, poi si di spi Lembara Eh, 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 eh Oh sì Oh sì Oh no IIf I Passi Come 1 IIf Sau ok ora poi ti fai 90 gradi poi ti fai 3 90 gradi e poi un stradito 3 90 gradi 3 90 gradi 3 90 gradi 3 90 gradi 1,2,3 e poi una scala di deciso qua sono i cubi qua sono i cubi la ci sono andati fuori 1,2,3 3 eeeeh rockabit 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 2 partite come si fa qua? Aspetta attaccato là Aspetta attaccato Alla Aspetta fammi di là Ah no pure se avete denunciato Aspetta Qua Aspetta attaccato non c'è qua mi vande Vui qua vent A coberta là allandista Va a come si vande Va a come si vande A coberta il forte non aspetta Non aspetta Non aspetta A besta ali c'è 2 d brings ali soprattutto devo essere con la scelta ma com'è aspetta che cosa hai da sei dove sto io lei di qua sopra non lo so non lo so dai 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 oh dove stai finia dove sei giusto devi salire dove sei faccio 90 e poi dov'è sto salendo normale guarda dove sto io ho visto ho visto che stiamo vai stai sali dritto non sali dritto senti a casa di qua guarda guardiamo il cazzo qua guardi fa l'edit, scala, poi guardi, spai lungo pronto, vai prende l'edit ah è dolore io sono l'edit ah è dolore vai, quali fa l'edit, scala, scala, e scala vai, vai vieni vai, vai uno è fiasso. uno è fiasso. un motivo è fiasso. uno è fiasso. no. ok vai qualifire per me tu non so non so non so ma ma non so vedi che c'è un po' brovi vedi che c'è un po' brovi vedi verso il muro vedi e poi doppio muro scala a ah vabbè ora mandi vai ma qua devi salire con l'edit vai 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 ti fa una scala ti fa una scala qua che sta facendo io le scala non posso sbagliare nè a questa scala scusami guardi sei sempre come prima vedi la scala 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 Sì Eh Tu i Eldarimi Va Va dai Oh Vai, vai, questo è lungo, bravo, questo è lungo, bravo Ah, ah, ah... vai, guardi, guardi, prepariamo per es Respiro a me verso toi, guarda Così vabbè Così Vabbè 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 Ma vabbè, quelli sono le tue tiranti, quelli darle Quelli darle Sono le tue, quelli darle Sono le tue, quelli darle Guardami Ha finito il tempo No, è vero Ancora non finisce il tempo Guarda, devi andare così, guarda Guarda qua Così Aspetta Ehi, ma serio Ma questo non mi piace Non mi piace 10 secondi Eh, dovessi farlo veloce Vai, vai Ma che ha produttivo all'inizio Vai Puoi di fare come prima Puoi di fare come prima, scare e scarire Tu vuoi di farci da una parte che è difficile proprio Qua 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 C'è una giusta Abri la scena, fermi la bomba Edita le scale Edita le scale Guardami, qua dire, mi da, qua dire, quale serve di dare Così Vai, non ti rufa, non ti rufa, dai 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 Buongiorno Ok Voi scena Oh Ruani Qua dire, abbiamo Questo che così a presto a perché un'annibili poi prendi le SNFl e bassi un straccio a presto oh man, i don't know, sorry no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no faccio furo, faccio furore sempre, capito questo? CHP5 uno altra volta appare il rischio, poi guarda quando lo faccio io Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. dimmi di quanto è vero la partita vabbè la via io ho giusto questo beh, ora avvio la partita vediamo un po' vabbè c'è chi c'è un po' qua vabbè vedi tu che stai no, non mi fanno vabbè, questo è un bug, non devo cazzo questo è un bug non posso ditare non posso ditare io perché non posso ditare? non posso ditare, puoi ditare tu? io si ma io no, ma perché? forse perché tu guardi una partita da gioccare io io non l'ho via io non l'ho via, ma la partita l'hai via da tu cazzo, 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 cazzo cazzo, cazzo cazzo, cazzo cazzo, cazzo cazzo, che faccio? ma una cosa, un'altra parte del mondo io entro per primo e ti dico, quando puoi entrare pure tu? vabbè ok Siamo dal mondo Siamo intorno al centro per... Sì, va, quello che ho fatto Ok Ok, ci sai? Allora, muoio intorno un attimo solo io Ok Stai qua tanto, stiamo solo intorno ad entrare Io faccio via partita Ok, avvio partita Avvio la partita Vedo una cosa Ok, entro il giocardino, entra, entra, vuoi entrare Sto qua tanto Ok non ti dava la porta lo so ma non... vedi che non massi cose praticamente fa un grado di pazienza eh sono molto grossi pure gli altri problemi che tu non mi serve e vedi non mi prenderla qui non mi prenderla eh ora tu non mi prenderla quanto tu mi prenderla 4 4 5 5 5 6 6 oh 2 e 3 1 2 e 3 8 2 e 3 1 2 e 3 2 ma forse non mi è, non mi è il killer però sforzo più per non sari soprattutto io mi faccerai ritti con l'asfalto e 3 ma il tu sei morto quando faccio 90 o cado giusto in un'ala c'ho vado a dico proprio fuori cado giusto ma non mi ha vinto spazio oh ah buon mio non mi ha vinto non mi ha vinto ma qual è il live ah buon esempio se ne vede il percorso di mongrat ok quanti specchi hai? non lo so non lo so non lo so guarda la ah che se li capisci guarda la mia ma dove sei chiedendo? ma vuoi trucchi anche lei eeeh sto a capire quando fai il fuoco è scalato muro è scalato muro è scalato muro eh ti giro anche per evitare il pavimento un'altra volta ti giro anche per evitare il pavimento un'altra volta ti giro anche per evitare il pavimento un'altra volta si qui questo è fuori un'uomo se lo stavate qui non è morto non è morto? no, non è morto ah è morto? ah, che vero come sta guardando? sortiamola da OBS ti saluto bella bro